Martedì 20 aprile, Bebado Samba e Lifegate Radio presentano Stacco il Generale, musica a lume di candela. Immaginate candeli, musica dal vivo, rigorosamente acustica e dal sapore mediterraneo, sani cibi bio e nessun utilizzo di energia elettrica. Dall'evento aperitivo con i prodotti biologici del Gas Gasper, a seguire Mini Marti in concerto. Un omaggio agli anni 20, un viaggio nel tempo tra valser e fado portoghese, passando per il tango, il jazz manouche e la musica balcanica. E ancora giocolieri, saltimbanchi e ospiti a sorpresa. Dalle 20 10 euro con aperitivo, dalle 22 5 euro con concerto al Bebado Samba in Fia de Messapio 8, San Lorenzo, Roma.